E questa bella storia ci ricorda quanto sia importante l'inclusione anche delle persone con fragilità. Ne parliamo anche in questo spazio dedicato al progetto RAI TGR Terzo Settore. Innanzitutto do il benvenuto alla nostra ospite di oggi, Roberta Ponzetto della WISP Valle d'Aosta. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora, la vostra associazione promuove regolarmente attività e iniziative rivolte proprio a chi ha più difficoltà a socializzare una lunga storia, quella della WISP in Valle d'Aosta. Sì, WISP in Valle d'Aosta è presente da tantissimi anni. Vi parlerò del progetto Sportivamente che è iniziato nel 2014. È un progetto che è rivolto a persone con fragilità psicofisiche e vede coinvolte il Dipartimento di Salute Mentale, il CERD, le cooperative sul territorio che si occupano di persone con fragilità. Poi questo progetto è stato allargato anche all'autismo. Adesso, dal 2019, la WISP ha deciso di continuare l'impegno con questo progetto e programmando degli incontri settimanali che promuovono attività motori adattata e durante la bella stagione delle bellissime passeggiate sul territorio, non solo alla scoperta della natura ma anche della cultura della WISP in Valle d'Aosta. Le prossime iniziative che state mettendo in campo? Abbiamo il 19 di aprile, VIVI in Città, aperta a tutti. VIVI in Città invece il 10 di maggio. Poi per l'estate, il programma deve ancora essere messo in calendario, potrete visitarlo sul nostro sito. Ecco, per chi fosse interessato, dove vi trova? Ricordiamo i vostri contatti. I nostri contatti sono la sede che si trova in Corso Lanceri al Pala Indoor, potete chiamarci o venirci a trovare al mattino o visitare il nostro sito. Grazie, allora Roberta Ponzetto in bocca al lupo per le vostre iniziative. Grazie.